Siamo per ai compagni braccianti e gente dei quartieri Siamo studenti, pastori sardi divisi fino a ieri lotta, lotta di lunga durata lotta di popolo armata lotta continua sarà l'unica cosa che ci rimane è questa nostra vita allora compagni usiamola insieme prima che sia finita lotta, lotta di lunga durata lotta di popolo armata lotta continua sarà una lotta dura senza paura per la rivoluzione non può esistere la vera pace finché vivrà un padrone lotta, lotta di lunga durata lotta, lotta di popolo armata lotta continua sarà lotta, lotta di lunga durata lotta di popolo armata lotta continua sarà di lunga durata grazie a tutti Grazie.